Salve a tutti ragazzi e bentornati nel canale di TossiGamer88 e oggi siamo di nuovo qui con Resident Evil HD Allora, avevamo lasciato, dopo che avevamo sbloccato tutte le porte della villa, c'è ancora un sacco da fare Però, penso che ho bisogno di tornare nel magazzino personale per vedere se tra quella marmaia di oggetti riusciremo a trovare qualcosa di utile Perché siamo leggermente bloccati, ma ancora per poco, la prova agile non si ferma, quindi Abbiamo provato tutte le armi che abbiamo, tra cui mitra, fucile a pompa, abbiamo ammazzato anche il serpentone Ed è stato veramente un bello scontro, cioè non è riuscito nemmeno a ferirmi Infatti siamo sani come dei pesci, ma a noi non ci interessa perché adesso dobbiamo trovare una soluzione Al passaggio segreto Poco più avanti Allora, andiamo qui Posiamo questo Poi, questo lo tengo, questo attualmente non mi serve Abbiamo, voglio provare una cosa, questa gemma rossa Devo esaminarla un attimo Cioè, sembra tondeggiante un pochettino, ma che dire, se ce la provo lì, ce la facciamo, combiniamo Sì, ma se tu mi dici un oggetto rotondo, giusto? Che c... Bene, bene, devo fare il simboletto Ah, ok Andiamoci così Allora ragazzi, vediamo se adesso funziona Funonsia, Funonsia dai Ok Questo qua Però cazzo quando non è preciso Ok Ok Questo qui Ok Manca l'ultimo Però sei un figlio di buttana, allora Cioè, devo essere preciso al millimetro Una cosa che odio di più Dammi questo E dovrebbe appattare qui Oh, finalmente, porca troia Mamma mia Spilla Ok Chiave emblema Semplicissimo Da quest'ora il risale all'origine di Dragon City Ok Va benissimo così Allora Ricarichiamo questo Poi mi servono Munizioni Dov'è? Dove sono le munizioni? No, no Munizioni dal fucile È bellissimo Cosa mi posso portare? Andiamo così Sprezzanti dal pericolo Dopo Questa breve Pausa E ora L'emblema della famiglia Spencer È dall'altro Dall'altro lato Mamma mia Questa è una bella seccatura E shortcut Qui vicino Ce n'è? No Vabbè ragazzi Ci vediamo non appena arrivo Perché tanto Devo perdere un po' di tempo Ragazzi Dopo mille e mila Chilometri a piedi Rieccoci qui E per fortuna Che c'è lo shortcut Altrimenti Bel dire in culo Ok Mi liberi uno spazio Grazie Quindi Questa dovrebbe essere La casa del La stanza del Proprietario Rebecca Sto scopando allora Un attimo Un attimo No attualmente No Non voglio premere niente Andiamo a vedere Che cosa sta facendo Rebecca Prima che ci muore E poi premiamo il pulsantone Cioè prima stavo impazzendo per quell'enigma Perché mi diceva Un oggetto rotondo La medaglia è rotonda Lo zaffirano Allora Di sopra Dove? Vediamo Dove è Rebecca? Vai Prima che muore E questa è la stanza Adiacente A quella giù In teoria Ma spara Testa di cazzo Che ci vuole? Oh Mamma mia Proagine Ma che cazzo dice Che quella si è cagata addosso Non ha nemmeno armi Boh Cioè gli salviamo la vita Poi gli diceva Dobbiamo uscire di qui Ma sei da sola Cioè cazzo Sapete che siete In un esperimento Umano Cioè col cazzo Che se io vedo Un Un insettone di quello Che cazzo Era un mostrazzo Dico Sì sì Continuo la mia missione Devo salvare il mondo Ma vaffanculo va Ma non volevo Metterti in ansia E ha gridato Che tutti gli zombie Da Resident Evil 1 A 4 L'hanno sentita E mi ha quasi Sforato un timpano Mentre noi siamo qui A premere pulsanti A random Da per tutto Ok Che cazzo è quello Uh Finalmente Ottimos Una collezione Di libri di scienze No no Non devo premere più niente C'è altro Ok Libri di biologia Questa non l'avevo vista Culo Questo si chiama Perfetto Adesso abbiamo i due Così dell'emblema E ora Andiamole a prendere Andiamole a ficcare In quella cazzo Di Serratura Quindi Andiamo qui Cioè al momento Questa è l'unica strada Strada che reputo ovvia Poi Non so Se sto sbagliando Voi fatemelo sapere Se è corretto Perché c'è Ancora un bel Pezzettino Di Strada Dov'è Combiniamo questo qua E ancora Devo andare a prendere La batteria Maledizione Mamma mia Sto diventando Snervante Ma non mi preoccupa Allora Non riusciamo Posizioniamo 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 queste cose Le torniamo indietro Mamma mia Delirio Perché c'è ancora Un pezzettino Di villa Sarebbero due Tre stanze Che non riesco a capire Come sbloccarle Ora Innanzitutto Voglio sapere Dall'altro Dall'altro lato Della casa Che palle Però Faccio avanti e indietro Come un coglione C'è ancora Una batteria Che Ho lasciato Lì E ogni fa E in medicina Ne ho lasciate Proprio a quantità Industriale Allora No Dobbiamo andare sotto Ma quando Mai dritto Devo andare Cazzo Ventimila strade Sto facendo Ne ho dimenticato Posizionare I due emblemi Porco Cazzo Adesso Facciamo La cosa Semplice Posizioniamo Gli emblemi Raccogliamo Tutto ciò Che c'è Da raccogliere Ultima Occhiata Le stanze Qui Se non si può Sbloccare Vaffanculo Vuol dire Che avverrà Dopo Cioè Come Non è necessario Ma vaffanculo Cioè Deve essere Preciso Al millimetro Ok Ora è preciso Uno Perché no Non so Non c'è niente Di insolito Ma lo devo Ficcare Da qualche Parte Cioè Ma stiamo Scherzando No No Non lo devo Prendere Come Non è necessario Questo Lasciamo Lasciamo perdere Andiamoci a Prendere Una batteria Vaffanculo A volte Entra Qui Di nuovo Di nuovo Ah Soltanto Questa zona Questa zona Fatta Ora Io voglio riprovare Inserirci qualcosa Cosa Perché non è possibile Che dopo Che l'emblema Che si trova Nella stanza Di spencer Non entra E poi Su spencer Chi l'ha mai visto L'unico spencer Che conosco Spencer E basta Si mi vorrei capire Non è necessario Ok Facciamo così Oggetto di pietra In metallo Aspetta Aspetta Oggetto metallico Soltanto Manca la pietra Allora Ma vaffanculo Va Ma questo Io lo Rificco Qua dentro Poi Qui ci sono Queste stanze Gli do Un'altra Occhiata Veloce Poi terminiamo Il video Nel prossimo Vediamo Cosa fare Ok Come vedete Il pavimento Fa un suono strano Però Non so se è normale Oppure sono io Troppo pignolo Secondo me C'è qualcosa Qui dietro Di Un'utilità Impressionante Come siamo Messe a salute L'erba 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 La raccolgo Ma lei me la fuma Arrivando a questo punto Mi fumo l'erba Lo so che non mi serve L'erba L'erba blu L'erba blu Maledizione Però qui c'è Ma se ci sparo Niente Buttiamo colpi Così Allora Se c'è veramente qualcosa Appena esco Mi dovrebbe dare Qualcosa di rosso Però non me lo da Il quadro Qui c'è il telescopio Potrebbe essere un telescopio Non so perché Mi è venuto da pensare A quando giocavo A Dark Souls E c'era il Mark Ingen Non funziona Mamma mia Proprio traduzioni Col culo Tutta la discussione E' qui dentro Adesso ragazzi Perché Non c'è Più Niente Un inquietante quadro Questa non serve Maledizione Non so dove andare Proprio non so dove andare Perché la soluzione E' proprio lì Di fronte Perché è l'unica Stanza che ci manca E poi basta Quindi che cazzo Facciamo Ragazzi Io posso dare fuoco Cazzo però Sì ho capito Che mi sto osservando Ma Non lo so Vuoto totale E' lì A portata di mano E io non riesco A comprenderlo Maledizione C'è la solution E' qui Cioè abbiamo esplorato Tutto l'esplorabile Manca soltanto Questo pezzettino Di stanza Oggetto metallico Non c'è niente Non c'è niente di insolito E fino a qua ci siamo Batteria Permette di utilizzare L'ascensore Che vuol dire C'è qua l'ascensore Mamma mia Casino Proprio Andiamo a cercare Un posto Dove andarci A infilare Questa cosa Ma quale ascensore E' Allora Perché qui Gli unici ascensori Sono uno Qui sotto E basta No Il giardino Non ci interessa Cioè tutto è stato Ripulito Da me Quindi Insomma Se io vado a salvare Poi nel prossimo video Cercheremo di Dare un senso Perché Arrivando a questo punto Mi sono bloccato E Non so dove andare a parare Però dai che palle Ogni volta Si Cioè dove cazzo Lo posso andare A trovare Un altro emblema Cioè siamo In una fase Secondo me Molto delicata Dove mi sfugge Qualcosa di semplice Qui Non c'è niente A parte alcune erbette Ma No vabbè Non mi va nemmeno Di andare a raccogliere Ne abbiamo Troppe Le munizioni Le ho raccolte Ce l'ho fatto Quasi tutto Qui non c'è più niente Torniamo a salvare E nel prossimo video Vediamo Cosa fare Do anche una sistemata Valoce All'inventario Ok Anzi Poso tutto Però un attimo Abbiamo anche Le medaglie C'è più niente Mi dia questi Perché ne ho due Ah ecco Per un attimo Non mi sarà fermato Al cuore Quindi ragazzi Termino qui Questo video Ci vediamo Alla prossima Ricordatevi di commentare E lasciare anche Un bel mi piace E se vi va Iscrivetevi al canale Quindi Ciao a tutti Ciao a tutti